Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti. Allora, faccio un piccolissimo intervento prima di andare sul grafico. Iscrivetevi sul canale di Instagram BitcoinFantacripto perché darò probabilmente degli ingressi. Iscrivetevi se non lo avete ancora fatto e non avete tempo di stare a guardare i video. Andate sul canale Telegram, vi lascio il link in descrizione per avere il riassunto con una semplice immagine di tutto quello che sto dicendo. Ma andiamo subito sul grafico, vi spiego un po' la situazione che sto valutando. Vi ho segnato delle possibili zone di inversioni con PRZ ovviamente. Più o meno l'ho segnata a 42, l'ho segnata a 40.800 e l'ho segnata a 38.800. Queste sono secondo me delle zone dove il prezzo potrebbe sicuramente sentire. Detto questo, non vuol dire che ci arriveremo perché ovviamente Bitcoin, lo sapete benissimo, ci ha abituato a fare dei punti di inversione dove nessuno se lo aspetta. Cosa posso vedere? Abbiamo, come vedete, una sorta di canale, di zona laterale che si sta formando. Questo che cosa può fare? Allora, secondo me andremo incontro a due ipotatici scenari. Allora, uno è quello dello sbilanciamento di questo massimo qui o lo sbilanciamento di questo minimo qui. Cosa voglio dire con sbilanciamento? Allora, vi faccio proprio l'esempio lampante, ve lo zoomo. Guardate in questo punto, ho messo il grafico a linea per tenere presente la chiusura delle candele. Guardate prima di scendere che cosa ha fatto. Guardate, eccolo lo sbilanciamento. Ha fatto qualche pips sopra e poi è sceso. Qui non ha dato tempo con mitigazioni e niente. Qui sicuramente avrà fatto un ritest. Adesso guardiamo un attimo sul grafico a candele. Sì, infatti, eccolo. Ma perché sono dinamiche, eccolo, il ritest del canale e poi scende. Sono dinamiche abbastanza frequenti se voi le andate ad analizzare. Vedete, in questa situazione potete vedere uno sbilanciamento in questa zona, eccolo, del precedente massimo. Il prezzo lo supera e poi viene subito riassorbito. E guardate poi dove va a rimbalzare esattamente su questa zona. Queste sono dinamiche che se voi andate a fare backtesting indietro sui punti di inversione vedrete che sono molto frequenti, soprattutto gli sbilanciamenti tipo questo, ok? Qualche pips sopra e ce ne andiamo sotto. Qui che cosa mi aspetto? Mi aspetto un po', tra virgolette, la stessa cosa. Se ora è vero che si è formato questa specie di canale, ok? Io voglio vedere se questo canale viene sbilanciato a rialzo o a ribasso. Sbilanciato o comunque un ritorno in questa zona, quindi un doppio minimo, un doppio massimo, diciamo. Chiamiamolo così. Per poi magari invertire e andare in una zona del genere. Potrebbe farlo come non potrebbe farlo perché Bitcoin potrebbe fare tranquillamente un qualcosa del genere. Fare breakout, ritest e se ne va. Perché non voglio prendere posizione ancora? Ve l'ho detto ieri. Uno, perché ultimamente i trade, come avete visto, sono andati molto in profitto. E cosa succede? Perché mentalmente, quando vai molte volte in profitto, può succedere che vai a prendere delle decisioni avventate date proprio dal fatto che sei stato, sei condizionato dal Ok, sta andando bene, ci riprovo perché ce l'ho dalla mia parte, ok? Invece no, non deve essere così. Ci deve essere lucidità quando poi dobbiamo fare degli ingressi. E se devo essere onesto, io in questo momento non ho delle indicazioni per fare un ingresso, né short né long. E poi cos'è che mi preoccupa? Mi preoccupa che siamo sulla zona sotto alla media 200 periodi. Vedete questa riga? Questa è la zona 200 periodi sul grafico 4 ore. Vedete che non siamo riusciti ancora a romperla con decisione? Ritorniamo un attimo con le candele piene. Vedete che ogni volta che ci abbiamo provato siamo stati subito riassorbiti. Vedete queste shadow quanto sono lunghe? Che cosa vuol dire? Vuol dire che qui c'è un rifiuto di questa zona. C'è un rifiuto perché qui stanno entrando i venditori. Guardate, se trovo la freccia magari riesco a farvelo vedere. Vedete in questa zona, in questa zona. Qui stanno entrando i venditori. Quindi statisticamente io vi posso dire, non è una previsione ma è un qualcosa che secondo me potrebbe tranquillamente farlo. Ovvero di andare a sbilanciare questa zona e poi riassorbire subito. Fare una mitigazione e poi scendere. Questo è un po' quello che mi aspetto io. Però è ovvio, io sono scenari che tengo solo in considerazione per capire cosa fare. Perché non li traderò, non traderò questa move. Aspetterò che, aspetterò dei segnali, aspetterò dei segnali che possano farmi entrare con la mia strategia e poi valuteremo. Ricordo che oggi è venerdì, quindi probabilmente statisticamente sabato e domenica potremmo aspettarci una zona, una fase laterale del prezzo. Quindi non voglio fare un trade di venerdì. L'ho fatto la scorsa settimana e infatti è durato una settimana e non ho voglia di tenere la posizione aperta così a lungo. Quindi, detto questo, vediamo cosa fa rispetto a questo canale che si è venuto a creare. e caso mai prenderemo le nostre posizioni. Non le prenderò comunque venerdì, sabato e domenica. Aspetterò comunque lunedì, ok? Per il momento io direi che vi ho detto un po' tutto. Prendete, ripeto, queste zone di PRZ come possibili target per un'inversione e poi vediamo un po' cosa farà in questi giorni. Noi ci sentiamo su Telegram, se non l'avete fatto iscrivetevi, siamo quasi 500 e controllate le notizie su Telegram perché sabato e domenica probabilmente le posterò lì senza fare un video come questo. Con il video ci rivediamo lunedì. Io vi ringrazio, ho detto tutto, ci sentiamo lunedì. Ciao a tutti!